Il Brindisi si gode il buon momento con sette punti conquistati in una sola settimana grazie alle due vittorie interne contro Casarano e Gravina e al pareggio esterno contro l'Altamura. La formazione bianca-azzura adesso è a più 4 dalla griglia play-out in attesa delle gare di recupero delle dirette concorrenti che si svolgeranno nelle prossime settimane. Il Brindisi però è concentrato già alla prossima sfida, un'altra sfida diretta domenica sul campo del Biceglie. L'autore del gol vittoria Giacomo Zappacosta infatti analizza il successo Brindisino ma guarda con attenzione ai prossimi impegni. Noi sapevamo di giocare contro una squadra forte, loro erano sono, stessi in classifica, quindi dovevamo giocare sull'episodio e siamo stati bravi a trovare il gol nel primo tempo. Poi ho segnato io, sono doppiamente felice, però i tre punti erano fondamentali perché ci stiamo mettendo anima e cuore in questa salvezza. Comunque venivamo dal turno infrasettimanale, quindi un pochino di stanchezza, le due squadre penso sia inevitabile. Noi si abbia fatto un buon primo tempo, nella ripresa potevamo sfruttare qualche contropiede, però loro erano molto bravi nel palleggio, poi comunque giocano con la spensieratezza di un sesto posto. Una squadra giovane, noi volevamo i tre punti che erano troppo, veramente troppo importanti. Adesso si va a Biceglie, un'altra gara importante in ottica salvezza, però perlomeno ci sarà una settimana piena di lavoro. Sì, un altro scontro diretto, noi non possiamo sbagliare nessuna partita, dobbiamo arrivare, siamo fatti una tabella di marcia, la sapete anche voi, dobbiamo arrivare a quei fatidici punti e poi possiamo staccare un pochino, ma fino a quel momento dobbiamo dare battaglia, dobbiamo prendere i punti in tutti i campi.